Siamo alla vigilia del voto europeo, un voto che può contare in Europa. In Europa viene presentato un appello dei economisti progressisti, la sbilanciamoci, in Europa tante firme, in Italia come è andata e soprattutto qual è l'obiettivo dell'appello? In Italia è andata bene perché ci sono diversi economisti che hanno sostenuto e firmato l'appello. Forse è andata un po' meno bene dal punto di vista della raccolta delle adesioni dei candidati alle elezioni europee ma questo non ci stupisce perché anche in questa campagna elettorale nonostante che siamo nel contesto di una crisi globale che ha colpito fortemente l'Europa, comunque l'Europa tutto sommato nel dibattito elettorale è rimasta abbastanza sullo sfondo. I dati di questi giorni sul fatto che l'intera Europa ha insegnazione, soltanto la Germania cresce, l'Italia continua ad avere una caduta del PIL ma anche paesi del centro come l'Olanda e la Finlandia sono da due anni in recessione, vuol dire che il problema non è più solo dei cattivi del Mediterraneo, la Grecia, il Portogallo, gli spendazioni, è un problema strutturale perché una politica di austerità e di tagli provoca depressione. Quindi più debito? No, relativamente, a meno che non si salvino le banche per fare altri regali alla finanza, il debito non cresce ma è chiaro che se diminuisce il PIL, il rapporto debito che rimane fermo allo stesso livello di prima e debito e PIL che scende peggiora, quindi è chiaro che è una spirale di peggioramento della situazione economica. Quindi il punto primo dell'appello di questa rete europea degli economisti progressisti è proprio interrompere, anzi rovesciare queste politiche di austerità che sono state imposte da misure come il fiscal compact, il rapporto 3% deficit PIL pubblico, il blocco alla spesa e l'incapacità della banca centrale di avere un ruolo dinamico per rilanciare l'economia. Voi avete proposto questo appello a tutti i candidati? Abbiamo proposto questo appello ai candidati alle elezioni europee delle liste che consideriamo democratiche, quindi PD, Movimento 5 Stelle, Lista Zipra, Sverdi. Ovviamente abbiamo raccolto un po' di adesioni però ci rendiamo conto che c'è ancora una insufficiente capacità da parte della politica nazionale di confrontarsi con le sfide che noi dobbiamo affrontare in Europa. Persino Renzi dice che non si può rispettare i vincoli europei, perché tagliare la spesa pubblica delle dimensioni in cui siamo obbligati a fare è impossibile, quindi è possibile che si vada a cambiare questi parametri. Noi ci auguriamo, chiediamo da anni, dall'inizio della crisi, chiediamo che l'Europa cambi strada. Da quando è stato fatto il trattato di Maastricht diciamo che è sbagliato pensare ad un'Europa costruita sull'austerità e sul taglio della spesa pubblica e sulla privatizzazione e sul libero mercato, perché il libero mercato ci ha prodotto la crisi del 2008. Il problema è che Renzi parla moltissimo ma poi i fatti vanno in un'altra direzione. Quindi è chiaro che ci sono adesso i margini per un cambiamento di rotta e per un cambiamento di regole che permettono ad esempio di togliere dal calcolo del deficit bill, di questo maledetto 3%, gli investimenti pubblici, gli investimenti per la transizione ecologica, che è assolutamente necessaria visti i problemi ambientali che abbiamo, gli sforzi per sviluppare ricerca e innovazione, gli sforzi per la cultura e la conoscenza, che sono tutte cose che alimentano la capacità di sviluppo dell'intera Europa e che sono particolarmente fragili nei paesi proprio più in crisi. Il modello di sviluppo dentro il quale ci siamo mossi in tutti questi anni è evidentemente in crisi, quindi bisogna investire su quei settori che consentono di produrre occupazione sostenibile dal punto di vista ambientale, giusta e dignitosa dal punto di vista sociale e competitiva dal punto di vista economico a livello globale. Sbilanciamoci, euro o non euro? Secondo noi non si pone assolutamente la questione di uscire in questo contesto dall'era euro. L'uscita sarebbe assolutamente disastrosa, avrebbe degli effetti che non porterebbero a una soluzione della crisi, ma al contrario a una devastazione sociale ancora maggiore. Non ci sono scorciatoi, le questioni sono complesse. L'euro è stato costruito male, è figlio di un progetto neoliberista che pensava di lasciar fare ai capitali, alla finanza che infatti è cresciuta in modo spaventoso e ha provocato i disastri che abbiamo visto. Ma l'Europa ha bisogno di un'integrazione, solo che di un'integrazione guidata dalle persone e non dai capitali, dalla dimensione sociale e non dalla dimensione dei profitti speculativi. Quindi nel complesso si può riformare profondamente l'unione monetaria, per esempio con la banca centrale che come le altre banche centrali americane e giapponesi abbia la responsabilità di finanziare la crescita e finanziare il debito pubblico in modo collettivo dell'insieme dei paesi, eliminando quindi il problema del debito e avendo un ruolo di rilancio della spesa. Dall'altra parte però non si può camminare solo sull'idea che il mercato e le monete siano l'intera dimensione dell'integrazione europea. L'Europa deve camminare sulle dimensioni di una crescita ambientalmente sostenibile e socialmente giusta, sulla generalizzazione dei diritti sociali, migranti, welfare e l'insieme delle politiche che richiedono una spesa pubblica che abbia un ruolo di qualità nell'insieme della caratterizzazione del nostro paese, quindi no F35 e invece scuole e università. E in questo contesto una moneta unica ci sta bene. Quindi anche uno Stato unico? No, è chiaro che c'è un problema, l'Europa ha già una forma di integrazione di cessione di sovranità dagli Stati a livello europeo molto elevato. Il problema qual è? E' che la cessione di sovranità è stata fatta alle tecnocrazie della Banca Centrale o della Commissione Europea e non alle democrazie di un Parlamento europeo con pieni poteri e di un governo che si è eletto responsabile. Quindi da questo punto di vista la partita della scelta del nuovo Presidente della Commissione Europea in base ai risultati del Parlamento europeo è una grande occasione. Infine cosa ne facciamo di questo appello? Dove verrà usato? Come verrà usato in questa ultima parte della campagna elettorale? Dunque l'appello innanzitutto è stato tradotto in otto lingue e diffuso in 12 paesi perché il lavoro che noi stiamo facendo è esattamente quello della costruzione di una rete di economisti e non solo ma anche di attivisti dei movimenti che punti sulla delineazione di un'altra strada per l'Europa. Quindi lo stiamo diffondendo a tutti i livelli, sono costruite iniziative pubbliche in diversi paesi oltre all'Italia. La nostra idea è continuare in questo percorso anche per cercare di fare pressione sul Parlamento europeo una volta che sarà eletto. L'Europa ha bisogno di cambiare strada perché sennò affonda in questa depressione. Quindi ci auguriamo che gli elettori si rendano conto che la scelta non è tra la tecnocrazia antidemocratica che ha sbagliato tutto e serve soltanto alla finanza e la protesta antipolitica e populista, spesso reazionaria, che avrà un grande successo purtroppo in queste elezioni europee. In mezzo c'è un'altra strada, un'altra Europa e un'altra possibilità di sviluppo. Perfetto.